Benvenuti nel nuovo concorso di Fortnite dove tu puoi vincere una skin regalata completamente da me con anche la possibilità di apparire nel video anche se non vinci nulla. In questo primo episodio vedremo la partecipante Arley che giocherà al gioco misterioso che le permetterà di vincere una skin oppure no. E più avanti nel video ti spiegherò come tu stesso potrai partecipare ad un video con me per giocare a questo gioco qui. Quindi segui il video fino alla fine e buona visione! E soprattutto iscriviti al canale, attiva la campanella, lascia un mi piace e soprattutto supportami nello shop col conce OctiPFI. Siamo pronti per lo show. Allora Arley benvenuto... perché ti chiami ninja? Non lo so. Perché hai cambiato? Ma perché? Vabbè, signori e signori lei è Arley Queen e sarà il nostro primo concorrente, quindi la nostra cavia in realtà di questo super gioco che probabilmente tu sicuramente magari hai già visto in tv, magari no, e allora vabbè pazienza, però è un gioco a premi. Quindi se tu vinci alla fine del gioco ti comprerò una skin che c'è nello shop. Guarda lo shop dove immagino tu stia usando il codice creatore. Ovvio. È quale? OctiPFI. Brava. Quale skin ti piace? Cioè, che cosa vorresti nello shop di oggi? Sentiamo. Pesce secco. Pesce secco. Ok, perfetto. Non ho i bucks per shopparlo, ma in caso ci caccio dentro un centone. Tanto alla fine sono qua, io ho quello che poi non mangia per un mese. Va bene, va bene. Ok, quindi tu vorresti pesce secco. Allora, ti spiego il gioco. Tu parti con la possibilità di ottenere una skin leggendaria. Ti darò due parole e tu dovrai sceglierne una. Ok, dovrai concentrarti di decidere una delle due e scegliere quella parola lì. Se sbagli, la rarità della skin che otterrai cala. Quindi se tu sbagli, tipo tra le due a sceglierne una, la skin da leggendaria diventa epica e così via. Poi rara, poi verde e così via. Questo per cinque volte. Ok, dovrai scegliere tra due parole per cinque volte. E alla fine, tutte quelle parole che tu hai scelto, insieme, ti daranno diciamo una soluzione. Dovrai trovare la parola che unisce tutte queste. Non so se hai mai visto la ghigliottina. Sì. Ah, ecco, perfetto. E questo è il gioco. E poi, però, per ottenere il premio, bisogna andare in partita e fare almeno una kill. Cioè, la persona deve fare almeno una kill. Quindi, io direi di part... Allora, sei pronta? Hai capito bene o male? Adesso io ti dirò due parole e tu dovrai scegliere. Perfetto. Vedo che ti sei visti te elegante. E quindi il tuo obiettivo di quest'oggi è vincere il pesce secco. Quindi diciamo che puoi già sbagliare due volte. Anche perché non ci sono skill leggendari. Quindi vabbè. Allora, allora, la prima coppia di parole tra cui devi scegliere è piccone e deltaplano. Quindi hai cinque secondi, devi scegliere concentrata. Piccone. Avrai vinto, no? E sì. La prima parola è piccone. Brava, 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 brava. Bravissima, ok. Ora, la seconda coppia di parole è raro ed epico. Cosa? Epico. Eh no, mi dispiace, mi dispiace. La parola era raro. Eh vabbè, dai, pazienza. Seconda, terza coppia di parole, terza coppia di parole. Attenzione, l'attenzione è palpabile. Silenzioso o rumoroso? Attenzione, questa è importante, eh. Rumoroso. E mi dispiace, ma ancora una volta hai sbagliato. Eh sì. Ma attenzione. No, forse ho capito. Vai, quarta parola, pro player o team competitivo? Eh sì. Eh, pro player. Brava, 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 brava. Ma io ho già capito la parola. Hai già capito? Eh, vedremo, vedremo. Signori, ultima coppia di parole. Shop o pass battaglia? Shop. Eh, mi sai che la parola l'hai capita? Sì. So che la tua tensione è al massimo, visto che tu la parola non l'hai capita, immagino. Eh, lo so, lo so. Devi concentrarti benissimo tra quelle cinque parole e decidere qual è la parola, la parola o l'insieme di parole che le unisce tutte quante, ok? Quindi tu pensaci, perché hai un minuto per pensarci e devi darmi la risposta. Se ti senti sicura, puoi già darmi la risposta, ma se sbagli perdi tutto. Quindi devi concentrarti benissimo, Harley. Sei pronta? Sì. Ah, puoi già dare la soluzione della parola? Sono un po' in ansia, però ci provo. No, no, devi essere sicura, eh. Eh, sì. Cioè, quindi, Harley, qual è la tua risposta definitiva? Io ti mostrerò subito se la tua risposta è esatta oppure no. Sei pronta? Ok, sì. La tua risposta è? Lascia bocchiata. Signori, le parole erano piccone, raro, silenzioso, pro player e shop. E Harley ha dato la sua risposta, che era lascia bocchiata. E signori, signori, la soluzione esatta, invece, era lascia bocchiata. Quindi, bravo! 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 Però, come ben sai, nonostante tu abbia indovinato, c'è ancora l'ultima parte della sfida. Andare in partita e fare almeno una kill. Devi fare almeno una kill. Se fai almeno una kill, il pesce secco nello shop sarà tuo. Quindi, Harley, forza. Eh, sì, andiamo insieme, decidi tutto tu, dove buttarti, eccetera. È tutto nelle tue mani. La kill devi farla tu. Io posso farne 10.000, ma non valgono. Tu devi fare la kill. Dai, farne 10.000, va. Eh, sì. Concentrata, Harley, concentrata. È la parte più difficoltosa della sfida. Anche perché, diciamo... Sì, ma la mia prima partita del giorno non vale. Anche camper, va bene. Quali? Dove? Anche un posto camper. Ah, sì, sì, dove vuoi? Ok, qua. Va bene, va bene. Devi fare almeno una kill. Solo questo devi fare. Cioè, buttare a terra il nemico, insomma, è che muoia. Basta che non mi arriva il compagnolo da dietro e sono a posto. Eh, questo... Questo è la difficoltà del gioco. Eh, bisogna essere anche un po' bravini, chiaramente. Altrimenti qua... ...si vincono le skin random. Bisogna concentrarsi un po', dico io, no? Mi sento... Perché? Perché non riesco a giocare. Io mi sa che mi fermerò qua a prendere... Grazie. ...il fucile a pompa. E beh, comunque siamo lì, eh. Prego, prego. So che io porto fortuna, eh. Eh, sì, no. Eh, no, perché mi conviene se tu non fai la kill, perché non devo sciopparti la skin. Se non me la regali, mi arrabbia. No, no, te la regalo, te la regalo. Se vinci la sfida. Se vinci la sfida. Sto scherzando. Chiaramente devi vincerla la sfida. Se non la vinci, non ti regalo proprio una tenchia. Guarda che ho trovato. Buono. Ah, l'hai preso? Sì. E allora cosa me lo dice, mare? Pensavo fosse per me. Diamine. Oh, tieni. Cosa? Dammi. E tu? Ma perché? Ma scusa, sei tu che... Tu devi fare la kill. Tieni qua. Non fare la... Guarda, tieni anche questo. Tieni anche questo. No, no, dai. Ma sei tu che devi fare la kill, mica io. Sì, ma hai shield almeno. Sì, dammi una R. Ah, questo che me. Che mestolino. Adesso devo fare le acrobazie col driftboard. Eh, ma la kill, guarda che più aspetti e più i nemici si fanno potenti e potenziati, eh. Io starei attento. Io starei molto attento. La sfida si fa sempre più ardua, eh. Man mano che il tempo va avanti. Nemici? Qua? Da qualche parte, no? Cioè, guarda, siamo già in 41. Dieci secondi fa eravamo in 50. Qua mi sa che... Eh, nemico, nemico. Nemico lì l'hai visto? Sì. Attenzione, eh, attenzione. La sfida è palpabile. La skin troppo grossa, non va bene. Eh, John Wick è grosso, sì. Shit. Ahia. Shit, mi hanno preso, mi hanno fatto malissimo. Ho visto. Guarda che se la faccio io la kill non vale, devi farlo tu, eh. Se lo fai nel killo io. Eh, non c'entra. La kill deve essere proprio che tu l'hai buttato a terra. Bravo. Spavento che mi hai fatto prendere con quel caccio. Sì, sì, sono io che ho il caccio. No, mi hai fatto prendere uno spavento. Ma dov'è sto tizio, diamine? A terra uno. Attenzione, attenzione. Ecco, vi devo già accompagnare. Eh, vabbè, basta fare così. Se me lo killi. Eh, beh, sei tu che devi... Sei tu che devi... Eh, sei tu che me lo killi. Eh. No! Eh, vabbè, che schifo. I cannoni, veramente. Siamo... Sto laggando. Atterra uno. Arley, sei tutti noi, Arley. Sei tutti noi. Uno contro uno. Uno contro uno, Arley. Non gioco stamattina. Arley, concentrata, concentrata. Aia. E niente. No, non è finita. Finché non... Finché la partita non finisce. Preparati. Devi tornare subito all'assalto, eh. Che ha poca vita, il tipo si starà curando. Aspetta, quindi ti vuole bene. Allora. No! Eh, sì. Eh, sì. Questo l'ho ucciso. E niente, Arley. E niente, Arley. Devi assolutamente killare qualcuno. Entra alla fine della partita. Hai ancora 30 giocatori da killare. Ci prova! Ci prova, signori! Ma neanche lontanamente. Ma neanche lontanamente. Con la palla di cannone l'ho vista che andava da un'altra parte. Addio, Arley. Odio il sime automatico. Aia. Perché hai parlato? Addio, Arley. E dai! Mi abbandoni così. Ma muoio! Ma muoio se mi fanno cadere, diamine. Io non ho vita. Cioè, non ho mazzo. Eh, vabbè. Arley! Arley! Arley, questo è un problema. Sì, infatti. No! Ma questo da dove sta fuori? Eh! Rip! Arley, mi dispiace. Ma il pesce secolo lo vincerai un'altra volta, mi sa. Eh sì, Arley. Mi dispiace. Mi dispiace, veramente. Grazie per aver partecipato. Grazie per aver guardato il video.